Vieni, vieni! Piova avanti! Sì, sì, però attenzione allo scalino, eh, mi raccomando! Oh, mamma mia, mi sono fatto male! Oh, oh! Il latte è quasi finito! Io spero bassi perché lo vedo molto affamato! No, Robby, il dito è in bocca, no! Hai le mani sporche! Adesso ti procuro il ciuccio! Non ci posso credere! Robby, sei sempre così serio! Io voglio fare qualcosa di divertente, quindi diventa più bambino, giochiamo insieme a palla! No, Dani, io ormai sono un adulto! Non gioco più alle cose a cui giochi tu e a cui giocano i bambini! Devi crescere anche tu, Dani! Ma quale crescere è crescere? Io voglio giocare e divertirmi come una bambina! Mi spiace, Dani! Devi lavorare, lavorare, fare i compiti, studiare, puoi farti una tua famiglia, insomma! Devi crescere, bisogna essere adulti nella vita, non bambini! No, mi spiace, Robby! Sai che ti dico? Tu non vuoi giocare e io giocherò lo stesso con te! Prendila! No, Dani, io non gioco con te! Robby? Oh, mamma mia! Robby, dai, non è divertente! Sì, ora vuoi fare il bambino che ti butti a terra? Non è affatto divertente! Anche se... In effetti questa pallina è davvero dura! Robby, sì, sì, ho capito che la pallina era molto dura, però adesso non è più divertente! Potresti smetterla? Robby? Robby? Gaga! Come gaga? Come stai camminando? Ah, sì, adesso stai fingendo di essere un animale! Ma perché mi stai seguendo? Non è... No, 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 no! Ferma un secondo! Quell'aspirapolvere ti ricordo che è molto costosa! Quindi per favore alzati, smettila e sì, d'accordo, non vuoi giocare? Non giochiamo più insieme! Robby? No, 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 no! Perché stai piangendo? Un momento Ma Perché stai piangendo Come Un neonato Ragazzi è arrivato il momento Del libro degli iscritti Se anche voi volete entrare a far parte Del nostro libro degli iscritti Iscrivetevi al canale E adesso Vediamo chi è il fortunato di oggi Ce ne sono due Roberta D E Valerio M Ciao Mi raccomando iscrivetevi al canale E commentate qui sotto con il vostro nome Dove Dove stai andando ora Ragazzi Credo che Quella botta In capa Mi abbia fatto male Forse ho capito cosa Sta succedendo Io ho desiderato che Robby Diventasse un bambino E con la botta in testa Credo Che si sia trasformato Allora Devo provare questa cosa Magari Riuscirò a capire Se è davvero così E Robby Lo vuoi Il ciuccio? Ciuccio Pappa Robby Ciuccio Pappa No 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 Questi si rompono Credo Che Robby davvero Non stia bene No Questo non si mancia Ragazzi Credo che Non ci siano Più dubbi Robby Crede di essere Un neonato E io Ora cosa faccio? No 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 Aspetta 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 Un secondo Andrò A comprarti qualcosa Qualcosa Per farti mangiare Per farti giocare Io non ho nulla qui Tu però Aspettami qui Mi raccomando La tua mamma Torna subitissimo Ho preso questa coperta In modo tale Da potertela Mettere a terra E tu dovrai stare Qui Buono E tranquillo Soprattutto Adesso dammi Qui La manina Piccolino Andiamo E seguimi Oh si si Proprio così Piccolino Andiamo Guarda qui La tua copertina Super morbida Sì si No no Aspetta Un secondo Ora la mamma Ti metterà Tante sedie Intorno In modo tale Che tu sarai Qui Tranquillo E non ti farai male No Quello è per adulti Non è per te Oh mamma mia Il Robby adulto Si arrabbierebbe tantissimo Allora Allora Aspetta Aspetta qui Eh Sì Quello Sai che ti dico Lo puoi tenere Così quando la mamma Non c'è Potrai divertirti Insieme a lui E adesso Aspetta Devo Cos'hai detto Eh Giusto Mi dimentico Che Che sei un piccolo neonato E non sai parlare Devo costruire una barriera Altrimenti Tu andrai camminando Per tutta la casa Ragazzi Voi avete capito Cosa ha detto E ora Ultima sedia Qui Tanto Credo che tu Non sappia saltare Quindi Questo sarà Il tuo spazio Per giocare Sei contento Amore della mamma Ecco qui Ora si è addormentato E la mamma Oh mamma mia Non mi ricordavo Che i neonati Russassero così tanto Vabbè L'importante È che adesso Sta qui Tranquillo Tranquillo Dormi Dormi Piccolo Bimbo La tua mamma Sta uscendo A comprare Delle cose Da darti Da mangiare Ci vediamo Dopo L'amore Della mamma È tornata Ragazzi Dov'è Robby? Io Sono andata via Per dieci minuti E questo È il risultato Devo Devo assolutamente Trovarlo Robby Sei qui? Oh mamma mia Dove si è nascosto? Robby Amore Della mamma Oh mamma mia Ho sentito Di rumori Ehi Ehi cacciolo No 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 Fermo Questo qui Non va preso Guarda Ci possiamo prendere insieme No Aspetta Ho capito Tu e la pappa vieni con me piccolino adesso ti faccio vedere quello che la mamma ti ha comprato bello della mamma in realtà il mio fidanzato però adesso sei piccolino quindi andiamo vieni vieni più avanti si si però attenzione allo scalino eh mi raccomando oh mamma mia si era fatto male piccolino dammi la manina dammi la manina forse si è fatto male piccolino oh oh è un po' rosso io lo so cosa fanno le dolci mamme dammi qui ora massaggiamo un po' e sarà tutto passato va meglio piccolino vieni qui amore della mamma si si oh si ecco qui aspetta un secondo ora la mamma ti mette sul segolone ecco qui ora no 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 aspetta un secondo tranquillo ora ti do i giochini e facciamo la pappa un po' più avanti ecco qui lo so che tu hai fame guarda qui cosa ti ho comprato una bavetta per la pappa ora dobbiamo soltanto metterla come sei carino guarda che ti sta proprio bene e tu sei proprio bello bello ma adesso prepariamo la pappa ho comprato questo biberon ma io non l'ho mai utilizzato spero proprio di riuscire a combinare qualcosa allora bene così si apre qui devo metterci il latte ora dovrò prenderlo dal frigo oh oh il latte è quasi finito io spero basti perché lo vedo molto affamato aspettate un secondo no Robby il dito in bocca no hai le mani sporche adesso ti procuro il ciuccio un momento un momento l'ho comprato non ci posso credere sei davvero un bimbo cattivo ci sono quasi ci sono quasi ci sono quasi ecco qui ecco qui l'ho preso aspetta un secondo devo assolutamente sciacquarlo perché è nuovo ci sono no 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 qui questo fa male questo è plastica ecco ecco così andrà meglio oh come sei carino sei contento vero ragazzi la vita da mamma è davvero complicata ehi e adesso lo devo anche rilavare non si fa questo non si butta Dani calma questo ti servirà come esperimento quando avrai dei figli apri la bocca non si adesso non te lo do più eh ora fai il bravo e farai la pappa hai capito sono duecento quaranta millilitri credo che andrà benissimo ah no un momento è molto freddo dovremo riscaldarlo mettiamolo nel microonde e adesso facciamolo stare almeno un minuto aspettiamo allora guarda qui la mamma cosa ti ha comprato ora ora te le apre la mamma no ma chi può sapere perché metti tutte le cose in bocca io lo so ti stanno crescendo i dentini e ti fanno male ora guarda qui te ne darò uno alla volta altrimenti li romperai questi qui te li darò dopo eccolo qui che carino il mio bimbo cresce davvero in fretta aspettate un secondo ma quello in realtà è il mio fidanzato è per colpa mia che gli ho lanciato una pallina in testa è diventato così come faccio a farlo diventare normale io davvero non lo so ragazzi consigliatemi qualcosa ehi piccolino ti ho detto che non si lanciano le cose io lo so che tu hai fame credo proprio che si sia fatto eccolo qui è pronto oh mamma mia è bollente credo proprio che serva questa lo so è divertente guarda qui il dinosauro eccolo qui il latte è pronto cucciolino della ma mamma eccolo qui apri la bocca e come sei carino dai su bevi bevilo tutto eccolo qui io adesso andrò un secondo di là no no ragazzi ragazzi io non ci posso credere ragazzi aiutatemi io non so davvero più cosa fare ci sono gli darò un'altra botta in testa in modo tale che che Robby tornerà in sé sì 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 dove era la pallina eccolo ci sono eccolo qui ci sono no no non l'ho centrato piccolino adesso è l'ora di fare la nanna guarda qui cosa ti ho comprato il polipetto per la nina nanna mai mi sarei aspettata di diventare mamma credo che sia il momento di farlo addormentare e poi non appena si addormenterà lo colpirò con la pallina in testa e speriamo che Robby ritorni il mio Robby ecco qui eccolo no 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 piccolino dobbiamo fare la nanna quindi dobbiamo cliccare questo qui dove c'è la luna ragazzi il piccolo Robby si è ma come si spegne questo coso ecco si è finalmente spento e ora devo cercare la pallina in tutto questo disastro pallina eccola qui ci siamo adesso è il momento di tirarla ci sono che mal di testa Robby ho due pernoccoli grandissimi Robby ma che è sta roba perché puzza di latte Dani è una lunga storia Robby grazie a tutti Grazie a tutti